eccoci ovviamente con la continua sono il 9 e purtroppo mio cugino se ne è andato però si è aggiunto SSL che sarebbe timo e i due hacker continuano a stare potremmo essere uno oppure è questa qua ok 150 ma provo a mettere spiaggia tipo timido tanto con gli hacker è buono cioè puoi tagliare in tutto il mare una cosa favolosa ok sono tutte piste dove si può tenere c'è la nuvola però buono questa nuvola voglio dire quella fungo se fai l'acrobazia ai funghi cadi e quindi la perde la nuvola vabbè qua la puoi tenere questo è un buono e basta che ho fatto una parte come mio cugino e sicuramente è stato molto contento da te che l'ho proposto vabbè queste sono cose che non c'entrano proprio niente però ve le dico l'ho proposto io di venire nella stanza c'è la nuvola ma c'è qualcuno invisibile mostrava dire la nuvola a nuvola La nuvola Tornimela Ok me l'ha torta Se ne è andata avanti però ottimo non ha la velocità Oh my god, vai vai, la nuvola, timo alla nuvola, sei grande E ora possiamo andare Allentatore di nuovo Più o meno Venti ma Ah ok pallotto Ok ok Io mi preoccupo per i miei amici Lo sapete che io ci tengo molto Quello ci ho detto Andiamo sulla corsia con la linea gialla Ok Un bel giro Wow No Ok mi sentino tutti a fondo No pecca Povero Timo Ha perso la nuvola Passata Sei Non so se faccio una sola gara Ma vediamo Ora vediamo Dipende Buono Yeah Terzo E Timo Vai Timo vai Timo Vai No Sesto Vabbè Vabbè ma mi pare che guadagna Mi pare Vabbè Vabbè Timo 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 E' un mito 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 Ok Ok 150 Ok 150 Mettiamo Spiaggia il consiglio E' un mito Faccio Solamente una gara Faccio solo una gara E' un mito E' un mito ok vabbè ancora la nuvola non si può avere dove è timo? sarò andato più avanti andiamo avanti perchè non serve rimanere dietro infatti timo è andato avanti no, veloce, veloce ok fumba e mi stanno un bel po' avanti vabbè speriamo di avere almeno 2-0 qua se ce la rinchiudo bene ma il ponte è stato bloccato timo eccolo tanto non è lui che è la nuvola e non facciamo ce l'ha lui e vabbè ma ora l'ha persa tanto timo lo saprei è uno dei miei grandissimi amici e mi sta molto simpatico paù e infatti non minaccia mai oggetti tipo cusciira ossia l'aspetto quindi siamo proprio ottimi amici anche se vabbè per il tempo tanto ma dove è vinta la banana tanto secondo più zero ultimo terzo guadagna bellissimo ci si dice il quinto ma ancora il migliore di questo non c'è no no certo dov'è timo ecco per questo che è che sta facendo l'uomo 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 ho quarto o quinto vabbè aspettiamo fatta solo da due gare queste parti però non fa niente ci vuole un po' per chiudere ok finito già vediamo più zero timo più 88 908 grande ci sei di più 904 eh 46 29 bravo hanno quadrato tutti ok ci vediamo un prossimo video purtroppo non continuo me ne vado ciao